La vendetta è un'arma che so maneggiare con grande competenza, si fidi. Non cerchi di farmi paura, Contessa. La più spaventata in questo momento è lei. Ancora in ritardo. Vogliamo fare in modo che non si ripeta. Cosa dirà la buona società milanese quando vedrà la sua pupilla fra le braccia di un...